Ciao Joker, sono Batmellov, non posso farmi vedere in volta altrimenti potrebbero scoprire la mia vera identità. Ma sappi che grazie all'aiuto del commissario Jürgen e di White Robin abbiamo scoperto il tuo trucchetto da quattro soldi. Hai tempo fino a lunedì per dire la verità. La verità che ti libererà da tutti i mali, da tutte le tue afflissioni. Ma si possono dire queste cose, si possono dire questa parola. Di la verità e non ti sarà torto un capello. Menti e verrai spottanato in pubblica piazza.